Vitangelo Moscarda è il personaggio di questo volume scritto da Pirandello che ha per titolo Uno, nessuno e centomila. È la storia di un uomo qualunque che a un certo punto della sua vita scopre casualmente di non essere per gli altri quello che è per se stesso. Da qui parte una lunga riflessione che porta il personaggio a compiere delle azioni che inducano gli altri a rivedere l'immagine che hanno di lui. Ma Vitangelo ottiene solo di non essere capito, di non essere compreso ed essere considerato un folle. Nella parte finale di questo volume si assiste alla rinuncia di Vitangelo a vivere nel mondo. Il romanzo riassume i temi centrali e il pensiero di Pirandello e può essere considerato il suo testamento letterario.